Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di best gamer video 6 oggi siamo su modern combat mc versus togliamo il volume perché sennò si sentirà tutto quanto mentre dal microfono e andremo a fare delle partite online mentre se potete vedere la live del mentre registro che c'è il gamer anche detto lui mio cugino luigi che sta registrando e c'è mio cugino andrea invece alla mia destra che sta invece vedendo il gioco come qui intanto sta caricando sta cercando i giocatori ok 8 8 su 8 e ringhi o best e adesso blocchiamo riprendiamo quando si è caricata la partita ok ragazzi si è caricata la partita possiamo andare a giocare dai adesso mi devi funzionare ok perché prima non ha funzionato con shift guardiamo con doppia v solo no guarda qua che potenza mamma mia ragazzi io non ho mai giocato perché ha visto il video precedente non ho mai giocato sul computer e gioco meglio sul computer che sulla playstation a cui gioco sempre adesso dobbiamo difendere il defended our now mettiamo uno scudo ok non è allo scudo sbagliato personaggio quella doveva essere il personaggio io mai l'ho sbagliato a mettere intanto siamo ancora in live il gamer ci dovrebbe stare in verso la sinistra un pallino tipo quello là di due ricordi per registrare se c'è il tempo che va avanti vuol dire che stiamo registrando vedi lo devi cercare sta un po nascosto e devi vedere se il tempo va avanti intanto qui problemi tecnici che il gamer non sa fare niente faccio no state vincendo sì lo puoi vedere da sopra 70 per cento dammi a vedere questo sì ok dove sono 89 90 no sono morto ok 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 abbiamo vinto adesso secondo round ah no non abbiamo vinto manca stiamo al 99 per cento stanno conquistando schiattarezza brutto ok no no quanti sono quanti 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 oh ma è possibile che stiamo perdendo all'ultimo ok conquista 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 e conquista come è possibile no ah ragazzi finalmente stanno immaginando che stai dicendo spiegami stai parlando con i nazi iscritti ci stai scudendo al canale mio fuori da casa qui intanto abbiamo un amico sd per la gopro una chiavetta usb dati da 8 giga e questa casa che cosa mentre doveva che questo qui ci abbiamo la scritta ma ve la faccio vedere più in dettaglio vedete micro sd usb 2.0 no a scritto e intanto qui possiamo andare avanti con il gioco e questa qua serve tipo se si usa la copro la scheda sd che c'è dentro voi la mettete qua attaccate con usb al computer e dalla copia mette dell'adattatore micro sd e attaccare al computer scaricato il video lo potete mettere su youtube dove volete anche su whatsapp e amici vostri così quindi stop un attimo ok ragazzi siamo in partita sbagliamoci perché non va ok c'era un problema con il mouse sai cambiare gioco cambiare schermata con registrazione gioco da un no perché praticamente nel cambio si usa si usa si sono morto praticamente si usa la il mouse e quindi si sul computer sul gioco gli risulta che tu stai a schiacciato il menù questi no quelli di quella che sono aperto e va bene ragazzi non si può vincere sempre ma aspetta un momento la persona forte eccolo qua il bestione adesso sono a bestia guarda che arma mosi guarda tata 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 papà 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 kamikaze niente sta partita stanno fatti schifo sarà perché ci sto io in partita sarà perché ci stanno i miei cugini ma stiamo facendo schifo non è colpa di andrea sempre colpa di andrea sempre colpa di luigi e andrea ragazzi se questo video arriva a 15 mi piace luigi e andrea i miei cugini e mei e tutti e due sia uno che se se arriva uno se arriva l'altro 15 mi piace i miei cugini si aprono un canale chiamato luigi e andrea in coppa no proprio così si chiama luigi andrea in coppa fatta no lo devi fare in essi iscritti lo vogliono si lo vogliono tanti video di ripubblica luigi tu non fai niente e tu non sai fai niente no stanno vincendo stanno vincendo stanno vincendo e volevi spararmi e io c'ho lo scudo e me si è tolto lo scudo e ti sei morto ma tu allora vuoi proprio le botte andrea lui ci ha detto dilla da dietro non è vero lui sta là ah no è vero lui ci sta dietro se ti trasportare ok andiamo avanti perché sei guardando oh ma devi inquadrar meglio il gioco ne hai capito o no fai fammi fai fammi oh sto facendo una registrazione bellissima ok ragazzi facciamo un attimo un'ultima partita fate vedere da quanto sta la registrazione resta otto minuti che dite voi due partite o un'altra partita due che dici ok due due partite due partite e finiamo vero 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 dove fai una live qualche gioco che giochi alla playstation non tiriamo la live e voi non vedi dovete andare perché non viene mamma come quante gioco alla playstation che tu in guarda se tu giochi alla playstation in guarda che giochiamo a gta non so in guarda una data al computer sta andando bellissimo sembra che non ha gta facciamo i nuovi aggiornamenti il colpo dell'orbolx faccio vedere la mia base operativa me la sono comprata 1120 milioni no 1200 l'ho comprata con i soldi reali taglia taglia e li ho guadagnati facendo gare e onestamente scommettendo scusa porta fuori hai vincitato hai finalmente una scommettina di 50 milioni anzi no vincitato best gamer gear 06 preferisci se inquadro il computer o se inquadro voi devi inquadrare tutti e due si proprio si vede poco se zoom al computer viene benissimo allora zoom al computer di me gliene frega poco la leggenda scudo scudo perchè non ti attivare lo scudo perchè sto perdendo e rascarico lo scudo mi stai dicendo che rascarico lo scudo lo studio lo studio eh state vincendo sta no stiamo perdendo perchè non ti stai mai zitto non ti attenti vedi quelli ne ero quelli di sinistra e mo ci stanno catturando state recuperando e volevi lezzo lezzo guarda che faccio ah mi hanno sgamato mi si è tolto lo scudato no loro stanno a 22 no io io sono questo di qua stiamo avendo lì ma mannaggia spacco il computer spacco il computer spacco il computer in live mettete mi piace iscrivetevi like condividete bella a tutti dove sono ah io sono arrivato da dietro che ha detto che sia un po' ambiguo però va bene eh io sono arrivato da dietro mi è arrivato uno da dietro ancora più stramba mazzadiel io direi di fare una partita qua e poi di aprire un altro gioco ah finisce che andrà allora in quanto a me io direi di fare una partita questa partita qua la finiamo e poi andiamo a fare una partita su un altro gioco ok senti il video è certo eh tac ecco hai manco fatto l'olio eh negli ha fatto l'olio dun 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 99 donne lasciatemi piace state lasciatemi piace e no l'ammazzo capito lasciatemi piace lasciatemi piace ammal Lasciate mi piace Stacca stacca Non mi citi in diretta polizia Epico Non stai facendo il video? Ah è vero Va bene ragazzi Intanto qua delirio Non si capisce dal live video Mi sta venendo Che dite Finiamo qua il video sul computer E continuiamo la live sulla playstation Oppure facciamo un altro gioco sul computer Aspetta chiudiamo un attimo qua E facciamo vedere Allora ragazzi stop un attimo La registrazione sul computer E vediamo che gioco portarvi Ok ragazzi Allora Un altro gioco Non ce l'ho molto Io ho molto come Modern combat E quindi Finisco qua il video Se vi è piaciuto iscrivetevi Lasciate mi piace Condividete questo video Se vi è piaciuto E noi E noi ci vediamo Un prossimo video E alla prossima live Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.